che guardiamo fatto la sua benfiga porto menti salienti pure questi non sfottiò di quello pure sta partita madonna ma il primo quello che gli è passato a tutti i gambe porco il primo gol del bagambuio è passata la gamba sottile c'è la palla sottile c'è anche il difensore aroni lo penso che c'è che sta dopato così con lui se vede proprio che sta dopato io ho perso una cote una cortonetti una francesco loder ben figa il cotonetti è in tutte e due partite grazie a tutti grazie a tutti